È una giunta totalmente ferma, hanno annunciato provvedimenti per 144 milioni di euro e 33 misure per aggredire l'emergenza, hanno voluto provocatoriamente chiamarle norme cura Abruzzo, il risultato è che dei 144 milioni di euro solo 12 milioni sono arrivate nelle tasche dei cittadini e per altri 10 si è attivato un fondo rotativo di 5 mesi per i consorsi di bonifica. Delle 33 misure, solo due misure hanno bersagliato l'obiettivo per le quali erano convocate durante l'approvazione di questa norma. È davvero una giunta ferma che ha voluto fare tanta propaganda e tanti annunci, ma che non ha realizzato una vera e propria risposta a questa emergenza. In questi mesi è stata sventolata solo un'unica bandiera, quella della propaganda. Questi sono i dati della nostra regione, tante promesse, pochi fatti, nessun fondo arrivato nelle tasche dei cittadini abruzzesi, ma soprattutto hanno intitolato queste leggi al cura Abruzzo. Bene, tra i primi 8 milioni di euro riprogrammati, guarda caso, proprio nei fondi strutturali europei, quindi fondi europei, 8 milioni erano dedicati agli operatori sanitari che tanto hanno fatto bene nei mesi di marzo e di aprile per la nostra sanità, per curare i nostri cittadini abruzzesi. Ancora oggi non riescono a firmare un accordo che faccia arrivare qualche soldino in più nelle tasche degli operatori sanitari.